E per il secondo anno consecutivo al forum Ambrosetti di Cernobbio c'era Gianroberto Casaleggio, guru del Movimento 5 Stelle, l'inviata Claudia Mazzola. Gianroberto Casaleggio, accompagnato dal figlio, sempre più presente nelle apparizioni ufficiali. Arrivo blindato, stesso copione di sempre, schiva la stampa. Posso chiederle di cosa parlerà? Tre cristalli e gli stucchi, scenario da favola sulle rive del lago di Como. L'appuntamento è con il salotto buono dell'elite della finanza italiana. Quella tante volte finita nel mirino di Grillo. Appuntamento che proprio per questo l'anno scorso aveva provocato mal di pancia in una fetta del Movimento, che adesso lavora per accreditarsi come opposizione seria e responsabile. In questo gioco delle parti ecco l'intervento del guru 5 Stelle, workshop presieduto da Trichet, ex presidente della BCE, e alla quale partecipa anche il ministro dell'istruzione Giannini. Ripensare il sistema educativo, modelli per una società migliore, il titolo della sessione di lavoro, durante la quale parla il cofondatore del Movimento. Non si smentisce protagonista ancora una volta alla rete. L'Italia è in fondo alle classifiche sulla diffusione della banda larga, e questo, sostiene Casaleggio, spiega il suo scarso sviluppo e la modesta innovazione. Internet è tutto, la tesi di fondo, l'educazione è solo una parte. È la rete che consente quella che Casaleggio chiama la disintermediazione in ogni campo, incluso quello economico. Ma la platea è perplessa, non mancano critiche, e di fronte al prolungarsi dell'intervento gli chiedono di chiudere.